Buonasera, la 56esima puntata di Biancorossi News si occupa di basket e da un contenuto esclusivo perché vi offre, vi propone la prima intervista come responsabile del settore giovanile della Palacanestro Varese e dell'Accademia Varese di Stefano Bizzosi. Buonasera a Bizzosi. Buonasera, buonasera. Insieme a Bizzosi c'è Gianfranco Ponti che è l'anima dell'Accademia della Palacanestro Varese che ormai è diventato un amico di Biancorossi News essendo molto spesso qui con noi. Buonasera. Buonasera, cari. Da adesso Biancorossi News vuole un po' sensibilizzare riguardo anche a una delle pecche della Palacanestro italiana che purtroppo propone tante squadre di primissimo piano di Serie A che però sono fatte con stranieri di seconda fascia che magari non si rendono conto neanche di essere in una città insomma perché stanno così poco e gli allenatori non hanno la possibilità di sviluppare anche un sistema di gioco. Insomma i settori giovanili spesso vengono abbandonati e si cerca una via un po' più facile. È d'accordo Bizzosi insomma c'è un po' una crisi dei settori giovanili anche se lei è reduce da una stagione brillantissima con l'Ane Sport City di Roma e sta ammiettendo un sacco di... ammiettuto nella stagione scorsa tanti successi. Ma grazie. Sicuramente le basi delle squadre che una volta nella Palacanestro italiana erano di giocatori appunto del nostro paese adesso stanno scomparendo. Ci sono tantissimi giocatori stranieri, conosciamo i vari regolamenti nelle squadre di A1 nel campionato professionistico. questo è legato a tanti fattori dal punto di vista economico, di strutture, di poco magari diminuito impegno verso il settore giovanile, la cura e il miglioramento dei ragazzi. Devo dire che sono a Varese perché l'Accademia Varese e i dottor Ponti viceversa tendono a fare un lavoro inverso rispetto alla tendenza normale. Si vuole creare un buon settore giovanile, già c'è, devo dire la verità, probabilmente ancora migliorarlo e speriamo che questa opportunità che mi è stata concessa porti davvero frutti importanti. Ecco, Ponti, è stato difficile prendere Bizosi, avete fatto un grande colpo. So che Bizosi era molto corteggiato anche da Bologna, come l'ha convinto? In realtà non l'ho convinto io, credo sia stato il progetto, come diceva prima lui. Oltretutto Stefano conosce bene l'ambiente, sa che è un ambiente difficile, ma in una città innamorata di basket e ci siamo messi d'accordo molto in fretta. È stato sufficiente parlare di quello che vogliamo fare nei prossimi anni. Ecco, le priorità del settore giovanile di Varese, insomma. Lei comunque, vabbè, ci parli innanzitutto della stagione che si è conclusa e ha vissuto bene con l'Ani Sport City di Roma. Ma io devo dire che sì, quel progetto romano è un progetto di tre anni, in questi tre anni partendo più o meno da zero abbiamo ottenuto ottimi risultati, avevano ottenuto due secondi posti, un terzo posto, un quarto posto, un primo posto. Quest'anno mi verrebbe da dire che la cosa più importante del settore giovanile in realtà è produrre giocatori, al di là dei risultati che gratificano però la produzione dei giocatori, credo sia la cosa più importante. In questo senso Varese garantisce una base di partenza davvero alta, perché credo che Varese, forse Bassano, forse sono le uniche società che hanno fatto quattro finali nazionali, quindi il compito è arduo, migliorare è un compito arduo, ma allo stesso tempo molto affascinante. Partiamo da un livello di qualità di gioco, di ragazzi, di struttura, di organizzazione molto alto. Come dicevo, la cosa bella sarà quella di vedere i nostri ragazzi giocare in A1 nella pallacanestro Varese. Ecco, questo è una cosa, i giovani che finiscono a giocare in squadre di A1 professionistiche, questo invece è meno frequente. Noi speriamo di poter rendere frequente questa cosa a Varese. Esatto, quello che ci auguriamo anche noi di Biancorossi News, insomma, avevamo iniziato appunto la trasmissione proprio così, spiegandoci che il basket italiano ritrovi anche giocatori del settore giovanile nelle prime squadre, non tanti stranieri che hanno ottenuto magari il passaporto comunitario in modo facile e che poi alla fine non riescono neanche a essere utili per coltivare dei progetti. Lei ha incontrato Varese alle finali nazionali e anche per quanto riguarda il campionato Under 18 ha battuto Varese, insomma. Come ha visto questa Varese e che cosa appunto è necessario fare? Le priorità, le prime tre cose da nuova responsabile del settore giovanile di Varese. Beh, io devo dire che abbiamo incontrato Varese in una partita molto combattuta e per la verità Varese è stata sfortunata perché ha avuto un infortunio di un ragazzo che in quel momento stava facendo molto bene. Diciamo che quando arrivi nelle prime otto squadre d'Italia il livello è davvero molto molto vicino e le differenze sono minime. Io la cosa che penso è che, e parlo in linea generale perché non mi sono ancora ben addentrato ecco nella conoscenza di tutti i giocatori e delle squadre e credo che il lavoro sia sui fondamentali. Cioè la cosa importante appunto è lavorare sui fondamentali, permettere al ragazzo di avere strumenti e mezzi tecnici che gli permettono di interpretare il gioco a più alto livello possibile. Ponti, lei, oramai siamo al 3 di luglio, il 30 di giugno lei avrebbe potuto esercitare un'opzione per quanto riguarda le quote della Palacanestro Varese, già aveva annunciato che avrebbe rinunciato questa opzione, sarà valida per l'anno successivo e poi le chiedo a che punto sono gli accordi fra l'Accademia, la sua Accademia e la Palacanestro Varese. Allora per quel che riguarda l'opzione, come ho già detto e scritto, diciamo l'opzione in sé è irrilevante dal punto di vista finanziario perché io mi sono impegnato a mettere una certa cifra che la metta sotto forma di azionista o semplicemente di supporto finanziario al settore giovanile non cambia nulla. Il Consorzio potrà decidere di concedermi un rinnovo o piuttosto una proroga della scadenza ma questo è un aspetto puramente formale, giuridico. Per quel che riguarda invece gli accordi con la Palacanestro Varese, l'accordo iniziale era di due anni più un eventuale rinnovo, penso che rinnoveremo nei prossimi giorni ma modificando tutta una serie di clausere che all'epoca sembravano corrette e che invece si sono rivelate complesse per cui nuovi accordi in discussione e tutto dovrebbe ripartire nei prossimi giorni grazie anche al progetto Academy e il trasferimento dei diritti sportivi dei ragazzi all'Academy stessa. Esatto, è una cosa molto interessante. Occorre modificare anche altro? In realtà è piuttosto una riflessione, cioè il settore giovanile oggi a Varese è tornata ad essere una cosa rilevante, era una cosa seria anche prima, oggi è diventata anche una cosa importante, grazie agli sforzi degli allenatori, lo sarà ancora di più grazie a Stefano. Nel prossimo weekend Stefano riceverà almeno credo una mezza dozzina se non una decina di nuovi ragazzi che si sono in buona parte proposti e sono cose che non succedevano da decenni oserei dire qui a Varese, dobbiamo investire sia sui ragazzi che abbiamo, su quelli che arriveranno. Il vero punto è a questo punto della situazione pensando che fra un paio d'anni avremo un certo numero di ragazzi pronti per la 1 e come convincerli a restare a Varese. Per cui questa è la vera riflessione da fare con Conti e la società. Il futuro della pallacanestro Varese passa appunto dal settore giovanile, da questo progetto di Gianfranco Ponti che ogni anno garantisce 250 mila euro all'Academy della pallacanestro Varese, quindi dal settore giovanile della pallacanestro Varese, ma quest'anno forse ha speso qualcosa di più? Sì, quest'anno per colpa nostra oserei dire perché in realtà gli esborsi sono stati superiori, siamo arrivati intorno ai 350 mila euro a causa dei nostri piccoli successi perché ogni finale nazionale costa a seconda di dove si svolgano le partite dai 5 ai 10 mila euro. Ne abbiamo fatte 4 su 4 e questi e i campionati interregionali ci hanno portato a spendere di più, ma li abbiamo spesi volentieri. Ecco, voglio chiedere una cosa a Bizzozi, una curiosità. Spesso nel calcio a livello giovanile dominano anche delle squadre importanti come Inter, Milan, poi c'è l'Atalanta, ci sono anche altre squadre interessanti di primissima fascia. Nel basket spesso i tornei giovanili sono vinti non dalle Big, non dalla Virtus, non da Milano, neanche da Varese, ma da squadre come la Stella Azzurra. Come mai secondo lei? Ma perché forse le squadre professionistiche, le squadre che giocano a livelli di A2, A1, tendono a usare quasi tutto il budget per le loro prime squadre, ripeto essendoci probabilmente dei problemi economici che nel passato non c'erano e quindi diciamo demandano probabilmente l'attività giovanile a club di tradizione, perché Stella Azzurra o altri club sono comunque di tradizione, ma che magari si concentrano esclusivamente sul settore giovanile. È una cosa effettivamente devo dire un po' strana, perché nel passato quando si ritrovava le finali nazionali, c'erano soprattutto club di primissimo piano, Caserta, Virtus Bologna, Milano, Livorno, Varese, Venezia, che si incontravano. Adesso è diverso, probabilmente questo potrebbe portare, dovrebbe portare delle riflessioni. Ecco, diciamo che mi fermo qui. Ecco, lei è nato l'8 giugno del 60, ma è coetaneo di punti anche lei? Assolutamente sì. Del 60, ma forse anche Fabio Colombo? Sì. Del 60, e lei, Fabio Colombo, ricordiamolo, diciamo allenato quest'anno l'Under 18 della Palacanestro Varese, è stato a Mestre, dove c'era anche lei, l'ha conosciuto lì, è vero? Sì, sì, in effetti quando ci siamo rivisti è stato quasi uno shock piacevole, perché io ricordo, scusate, Colombino, perché lui era Colombino, e gli ricordai appunto quando lo vedevo giocare in difesa soprattutto contro avversari magari più esperti e veterani e lui giocava da dietro, una cosa che vedi poco tempo fa fare a Rubio e nell'NBA a marcare allo stesso modo e io gli ho detto ma tu sei stato un precursore perché l'hai fatto già quanti anni fa? Io allenavo nel settore giovanile di Mestre e quindi pur essendo coetanei io allenavo, però lui giocava e è stato bello rivedersi. Una vita per l'allenamento, lei non ha giocato ad alto livello, ha iniziato a 16 anni ad allenare il Mira, che è una squadra veneziana, lei è nato a Dolo che è vicino a Venezia, sono vicino a Venezia, come è nata questa vocazione? Ma in realtà sì, io ho iniziato ad allenare a Mira pur giocando, ho giocato fino a un certo livello non alto, ma perché a un certo punto feci un buon risultato col settore giovanile molto giovane, arrivamo dopo Venezia e Mestre con le due squadre di Serie A, quindi Mestre mi chiesi di andare a fare l'allenatore, di andare ad allenare, io Mestre era un po' il sogno, il dopolavoro Monteggio, il famoso dopolavoro Monteggio, io fui reclutato da Santi Puglisi, entrai in quel settore e fu un po' un amore a prima vista, ma come dicevo si arrivava molto prima una volta, 22 anni, fu il primo anno di vice allenatore in Serie A, quindi una cosa abbastanza repentina, la cosa che mi onora insomma di essere stato a Mestre, a contatto con allenatori come Massimo Mangano, come Ettore Messina, Claudio Bardini, L'Ele Molin e Eugenio Dal Masson, eravamo un bel gruppo di allenatori. Tra l'altro ha lanciato anche giocatori interessanti, ricordiamo Villalta, Claudio Coldebella, Pilutti. Beh, Villalta un po' prima, sicuramente Pilutti era nel dopolavoro Monteggio, è nato nel dopolavoro Monteggio, sicuramente Pilutti e Coldebella, ma ho allenato anche Federico Casarin, quello che adesso è il presidente della squadra campione d'Italia. Infatti sono bei ricordi. In tanti la volevano, Bologna la voleva, lei ha scelto Varese che ha allenato nel 2014 dopo l'esonero di Frates. Sì, l'allenai per qualche partita. Dopo l'anno dove vincevo la stagione regolare, io ero vicinatore di Frank Vitucci, si è stato un anno un po' più difficile, terminato comunque con dei buoni risultati in quell'ultimo periodo. Alla fine comunque ho avuto sempre ottimi ricordi, bellissimi ricordi di quell'esperienza e questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad avere il piacere di ritornare a Varese. Devo dire uno dei motivi, perché obiettivamente il principale motivo adesso è il settore giovanile, la proposta che mi è stata fatta e soprattutto l'entusiasmo e il coinvolgimento che ho sentito. Forse questa è la cosa principale per essere qui a Varese. Ecco, entusiasmo e coinvolgimento sono gli ingredienti che non mancano all'Accademia di Ponte. Sì, sono ingredienti fondamentali, ma essenzialmente perché siamo un gruppo di persone, come facevi notare prima, che si conoscono da una vita. Un gruppo nel quale Stefano è stato accolto con ulteriore entusiasmo e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Domani passeremo buona parte della giornata insieme, analizzando squadra per squadra i nostri punti di forza, di debolezza, cosa manca. Ad esempio Cristiano Maino, reduce dalle finale nazionali, ha lanciato un grido di dolore sul fatto che le altre squadre possono vincere con noi, ma essenzialmente perché hanno una fisicità, come dice lui, molto più alta della nostra, ci porremo rimedio con un'iniezione di nuovi ragazzi fisicamente importanti. Bene, dove andrete a prenderli, Vizzossi? Io credo che oramai il reclutamento è abbastanza aperto nel mondo, diciamo così. Devo dire che il mio punto di vista è guardare principalmente in Italia, cioè nel nostro paese, se possibile attorno a Varese, però l'interesse per una società che ha vissuto a livello europeo, a livello mondiale come Varese, credo che non si possa fermare ad essere provinciale o regionale, è ovvio. Ci sarà una provincia da vedere, non dico scandagliare, ma da cercare di creare più rapporti amichevoli possibili, una regione, se possibile una nazione dove poter confrontarsi con allenatori, con realtà, a vedere se si possono reclutare. Poi c'è il mondo, ancora che si apre, c'è la possibilità che dà la federazione di formare giocatori anche stranieri con quattro anni di attività giovanile. Io credo che il mondo, tra virgolette, vada verso questa forma di globalizzazione anche a livello di basket. È ovvio che mi immedesimo in un tifoso di Varese, vedere un ragazzo di Varese essere in prima squadra, probabilmente è una cosa importante, o vedere un ragazzo che per molti anni ha frequentato le tue squadre, le varie in prima squadra, questa sia la cosa migliore a quel punto e a questo punto da quale parte geografica sarà, insomma, non staremo a guardare. Esatto. L'auspicio è che Varese possa ritrovare in prima squadra giocatori, insomma, come ha avuto in passato, insomma, Gialdo Ossola, Andrea Meneghin, Cecco Vescovi, Max Ferraiola, insomma, e tanti altri nomi che ovviamente sarebbe bello ricordare, ma la lista è molto lunga. Lei è vicino anche all'Africa, perché è allenato in Camerun, e in Africa svolge un'attività meritoria, se ce ne vuole parlare, insomma, magari non tanti conoscono questa sua attività, legata comunque anche al mondo della solidarietà. Sì, sì, io sono andato con un tempo fa, 12-13 anni fa, con un medico che stava costruendo un ospedale in Camerun e mi disse ci sono tante persone malate, ma in realtà ci sono molte di più sane, quindi se riusciamo a fare qualcosa, e fu per quello che partì. Adesso la mia associazione si chiama Sports Around the World, lavora in cinque paesi africani, abbiamo fatto un intervento ad Haiti, e costruiamo praticamente strutture sportive, formiamo allenatori e cerchiamo di regalare la possibilità del gioco dove non è permesso. Ci ispiriamo agli articoli 31-34 per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite e ci divertiamo, siamo un po' matti di andare un po' in giro per l'Africa a proporre queste cose, con scadenze annuali nei villaggi in cui abbiamo costruito strutture, formato allenatori e questo è anche uno dei motivi per cui qualche ragazzo camerunense venne a Roma, cioè sul suggerimento dell'ambasciatrice italiana Samuele Isopi ci disse visto che li state aiutando qui, perché non li aiutate in Italia dove potete dargli ancora più dignità nel gioco, nello studio e nella vita di tutti i giorni. Questo poi mi ha portato a conoscere altre persone e quindi alla richiesta della Federazione del Camero di allenare la squadra nazionale femminile con la quale è stato bello quattro anni fa raggiungere il miglior risultato della storia del Camero femminile cioè la medaglia d'argento alla Coppa d'Africa poi a partecipare a un preolimpico nel quale però il pronostico purtroppo da tipo 49esimi al mondo giocando contro l'Argentina e Turchia non ci ha permesso di andare alle Olimpiadi però è stata un'esperienza importante. Bene, grazie a Stefano Bizzosi che a Varese ritrova fra l'altro anche Caia di cui è stato assistente a Pesaro a Pesaro, per qualche mese sono stato assistente a Pesaro di Attilio sì, ci conosciamo bene ovviamente. Ecco, io chiedo a Bizzosi di farci vedere quando appunto avrà preso in mano proprio il timone qualche allenamento insomma vorremmo passare con lui qualche giornata al palazzetto per vedere i ragazzi all'opera e per parlare appunto del futuro della Palacanestro che deve passare necessariamente da un progetto e un progetto non può escludere i ragazzi, i giovani. Ma vorrei chiudere questa trasmissione con Gianfranco Ponti che ha dato un grande impegno insomma è venuto spesso in trasmissione di Ben Corossi News dicendo l'Academy deve essere l'Academy Varese deve essere la prima in Italia altrimenti non ci mettiamo neanche. Progetto molto ambizioso Ponti ha già qualche nome di giocatore di qualche rinforzo per Varese ci dia qualche indiscrezione sulla vostra attività. Allora, nomi non ancora perché i contratti saranno firmati nei prossimi giorni e non sarebbe corretto nei confronti dei ragazzi e dei loro genitori. Detto ciò dovremmo sicuramente chiudere entro la settimana prossima per un paio di ragazzi annate 2003-2004 entrambi già nel giro della nazionale e ritengo altri 4-5 giocatori sempre col principio della fisicità perché è un po' quella che manca a tutte le nostre squadre. So che state pensando anche una festa. Sì, essendo stati in realtà tutti così bravi a livello di tutto il settore giovanile con le 4 squadre qualificate alle finali dopo la pausa estiva organizzeremo un grande evento a Varese per festeggiare tutto il settore giovanile compreso il mini basket evidentemente con la speranza che tutti gli appassionati di basket vengano con noi a festeggiare. Che voto dà al settore giovanile in complesso? Diciamo utilizzando i voti che si usavano una volta alla mia epoca direi almeno 8 8 su 10 però per diventare i primi dovremmo arrivare a un 10 pieno. Avremo tante cose da dire riguardanti il settore giovanile della Pallacanestro Varese e l'Academy Varese e naturalmente almeno il cuore di chi ama la Pallacanestro Varese è un cuore che può sperare perché se al timone c'è Gianfranco Ponti allora tutto può succedere anche che qualche Varesino che qualche giocatore del settore giovanile riesca finalmente a tornare in prima squadra. Avrei tante cose da chiedere ancora a Stefano Bizzosi mi piacerebbe che ricordasse il McDonald's Open di qualche anno fa che aveva affrontato con Pesaro ma avremo modo di rinvitarlo e di approfondire tanti temi tante curiosità perché insomma il cuore degli appassionati di Varese è pieno di speranza anche per l'arrivo di Stefano Bizzosi dovuto anche al grande impegno di Gianfranco Ponti e del suo staff. Grazie. Grazie mille. L'appuntamento è alla prossima settimana con una nuova puntata di Bianco Rossi News.